video veloce veloce per farvi vedere dove accovacciarsi per sbloccare per iniziare a sbloccare le missioni cioè per iniziare a sbloccare la skin di doom dobbiamo andare vicino a dove c'era residenza del ribelle adesso c'è no c'è ancora residenza del ribelle dobbiamo accovacciarci vicino alla statua ma a terra mi accovaccio vi faccio vedere è semplicissima la ecozzo intanto mentre atterriamo codice creatore sempre attivo ragazzi lo usate mi raccomando taggatemi perché avete la possibilità di vincere premi durante i contest e le lotterie allora ci sono quasi ragazzi vediamo dov'è la statua perché sinceramente non l'ho mai vista sta statua non so se c'era già o l'hanno aggiunto in questa season ok sopra l'albero sono atterrato e ingrandiamo un po' la statua è ok dietro è questa cosa qua va bene allora si l'avevo già vista allora raga andate vicino alla statua non penso sia importante davanti o dietro però vabbè andiamo per sicurezza davanti si salta ok e si ci si accovaccia raga con io da cellulare mi accovaccio così e da dalla play mi sa chi è quello per mirare si dovrebbe essere quello per mirare beh comunque raga semplicissima la ecozzo mi raccomando per supportare il canale codice creatore sempre attivo se lo usate taggatemi sui social che trovate in iscrizione anche se l'ho già detto lo ripeto ciao